Cari studentesse, cari studenti, ho il piacere di accompagnarvi all'interno del percorso di studi di Ingegneria del Cinema e dei mezzi di comunicazione in questo video. Vi darò alcune informazioni sul piano di studi per iniziare, poi cercherò di presentarvi le competenze che ovviamente acquisirete qualora vi scriverete e infine parleremo degli sbocchi professionali. Ma cosa forse altrettanto importante cercherò anche di farvi capire quali sono i tratti peculiari di questa laurea magistrale che è davvero un po' particolare come spero capirete seguendomi in questo video. Dunque iniziamo. Anzitutto questo percorso di studi è l'unico corso certamente in Italia e soprattutto in Italia che coniuga il metodo proprio dell'ingegneria informatica con i contenuti della comunicazione dei media. Unisce quindi competenze nell'area delle Information Communication Technologies con il mondo delle industrie creative e culturali, come vedremo fra qualche istante osservando il piano di studi. Quindi le nostre studentesse e i nostri studenti seguono le diverse fasi della filiera digitale, più specifico delle filiere dei digital content, la produzione e distribuzione di contenuti digitali. Questo significa che un prodotto digitale, sia esso un film, un videogame o una comunicazione sui social, viene seguito dalla fase di concept alla sua realizzazione e infine al posizionamento sul mercato. Ora cerchiamo di vedere un po' più in dettaglio le competenze. Vi faccio degli esempi di cosa sanno fare i nostri laureati. Innanzitutto i nostri laureati e le nostre laureate sanno pianificare le fasi di realizzazione di un prodotto creativo, sia esso appunto un format televisivo, un videogame. Sanno definire un piano di marketing, sanno gestire poi la valorizzazione di quello che hanno progettato sui canali di distribuzione, in particolare social network. Sanno utilizzare sistemi di grafica, 2D, 3D, realtà virtuale, con una prospettiva centrata sull'utente. Sanno utilizzare sistemi di riprese post-produzione, da quelli più tradizionali a quelli più innovativi, come ad esempio tutto il nuovo campo di sviluppo delle immagini immersive a 360 gradi. Sanno realizzare effetti speciali, o meglio visual effects per il video e il cinema, e sanno infine progettare videogame. Ecco, questi sono gli esempi un po' concreti di quello che si impara a fare durante il percorso di studi. Ora guardiamo il piano di studi un po' più da vicino. Il piano di studi è strutturato secondo alcuni assi tematici. Ci sono dei corsi che attengono più alla filiera video e immagini, corsi che attengono maggiormente alla filiera dell'audio e corsi più strettamente legati alla comunicazione digitale strategica sui social network. All'interno di questi assi tematici lo studente può personalizzare il proprio percorso grazie anche a una rosa molto eterogenea e ampia di corsi a scelta. Se ci concentriamo sul primo anno, abbiamo i corsi dell'area più immagine e video, cinema immersivo e realtà virtuale, ma altre sì abbiamo computer animation e game design. E poi abbiamo corsi che attengono più alla comunicazione social con future storytelling. Iniziamo la filiera suono con un corso di ingegneria del suono e infine abbiamo ovviamente dei corsi che forniscono competenze infrastrutturali, digitali e elettroniche, come sistemi elettronici per la produzione e distribuzione. A questi corsi si aggiungono degli insegnamenti a scelta nelle aree maggiormente creative per dare la possibilità a studentesse e studenti di personalizzare molto il proprio percorso in base alle proprie passioni. Questi insegnamenti a scelta, non posso citarveli tutti, li trovate sul sito del Politecnico, ma vi do giusto qualche esempio. Si va da fotografie e cinema digitale a psicologia cognitiva, ecco, quindi capite l'ampio spettro. Una parte di questi corsi sono offerti grazie a importanti partnership con altri enti di formazione, tra cui il Conservatorio di Musica della nostra città di Torino e l'Accademia di Belle Arti. Vediamo ora il piano di studi del secondo anno. I tre assi tematici dovete sempre un po' tenerli a mente. Sull'asse delle immagini abbiamo i corsi di Visual Effects, il corso di Visual Effects. Sull'asse dedicato all'audio abbiamo il corso di Sound Design. Sull'asse dedicato alla comunicazione social abbiamo Digital Strategy e abbiamo in aggiunto un corso molto interessante che si occupa di tutto quel mondo dell'interazione tra virtuale e reale, che si occupa quindi di interfacce anche fisiche ed è Digital Interaction Design. Ovviamente a secondo anno fare della tesi, una cosa su cui vale la pena dedicare qualche secondo in più è che per i nostri laureati e le nostre laureate c'è la possibilità di svolgere tesi all'estero, di svolgere tesi con le imprese e insieme a delle imprese, cosa estremamente interessante perché apre come dire le porte dell'università e vi abilita già all'ingresso al mondo del lavoro. Dal punto di vista dell'internazionalizzazione la nostra laurea magistrale ha diversi scambi erasmus dedicati proprio alle ingegneri e agli ingegneri del cinema e dei mezzi di comunicazione. Ad esempio tra le nostre destinazioni abbiamo Eurecum che si trova in Francia a Sofia Antipolis e che offre anche un percorso di doppia laurea. Poi abbiamo l'Ecole Polytechnique de Lausanne in Svizzera. Queste due destinazioni sono adatte maggiormente a studenti con interessi nell'area informatica. Poi abbiamo come destinazione la Germania con la University of Education of the Ingarden, la Spagna, Università Politecnica de Valencia e il Sud America in Messico con l'Istituto Tecnologico de los Estudios Superiores di Monterrey. Queste tre destinazioni sono invece maggiormente pensate, immaginate e usufruite da studentesse e studenti che hanno una passione più sui corsi creativi nell'area dei media. Infine completa questo ampio spettro di possibilità di internazionalizzazione la destinazione presso la University of Plymouth in Inghilterra e in particolare nel loro Master Program di Digital Art and Design. Questa è una destinazione pensata anche per chi vuole fare tesi all'estero e per ragazzi e ragazzi appassionati di videogame e di digital arts fondamentalmente. Bene, da questo affondo nel piano di studi si capisce come una delle peculiarità di questo corso di studi magistrale è proprio la formazione interdisciplinare, sostenuta anche da possibilità importanti di mobilità internazionale. Entrambi questi elementi, la multidisciplinarietà e la spinta all'internazionalizzazione sono oggi sempre più indispensabili per chi vuole operare nelle industrie creative del digitale a livello globale. Ora vorrei mostrarvi qualche highlights, sempre con l'idea di darvi un po' più un'idea concreta delle peculiarità del nostro percorso di studi. Innanzitutto abbiamo un laboratorio dedicato, il Visionary Lab. Questo laboratorio è un teatro di posa per la produzione di video, effetti speciali, realtà virtuale con delle attrezzature assolutamente allo stato dell'arte. Faccio giusto qualche esempio, abbiamo un red camera, abbiamo dell'Ista 360 per le immagini immersive, abbiamo dei visori Oculus per la progettazione in realtà virtuale e così via. Le studentesse e gli studenti hanno accesso a questo laboratorio e possono prenotare attrezzature, usare lo spazio, allestire dei set, insomma possono usarlo per i loro project work, che è l'altro tratto caratteristico della nostra laurea magistrale. La maggior parte dei corsi prevede la realizzazione di progetti mediali, quindi alla fine dei due anni voi non avrete solo acquisito delle importanti competenze utili per il mercato del lavoro, per spenderle nel mercato del lavoro, ma avrete anche un portfoglio di progetti da mostrare quando vi affaccerete al mondo del lavoro. Tipicamente i project work che realizzate sono progetti di cortometraggi, prodotti game, applicazioni voare, che nel migliore dei casi vengono anche già inviati ai festival di settore durante il percorso come è accaduto a nostre studentesse e ai nostri studenti. Perché è così importante questo tratto peculiare della nostra laurea? Perché, come ci ha detto un nostro laureato, Enrico Giovannini, che sta facendo carriera in una importante società della digital economy, i progetti da consegnare a ogni esame allenano le dinamiche proprie del mondo del lavoro. Quali sono queste dinamiche ragazzi? Lavorare in gruppo, saper applicare e non solo immaginare le idee e saper sviluppare tecnologie e contenuti efficaci unendo competenze diverse. Oltre ai project work all'interno dei corsi avete anche la possibilità di partecipare a dei progetti, lasciatemi dire, un po' speciali, che nascono da collaborazioni che il nostro corso di studi ha con enti e imprese nel mondo esterno. Faccio solo due esempi tra i più rilevanti. Il primo è un corso di formazione avanzata che abbiamo offerto ai nostri studenti e alle nostre studentesse grazie alla partnership con il National Film Board of Canada. L'NFB è uno dei principali enti pubblici mondiali di produzione cinematografica specializzata in animazione ma non solo. Hanno un reparto dedicato al digital e alle immagini più, diciamo alle frontiere più innovative che hanno a che vedere con le immagini immersive e interattive. Bene, grazie a questo accordo un gruppo di studentesse e studenti ha sviluppato un prototipo di mixed reality da cui ora stanno nascendo i progetti di tesi insieme al National Film Board of Canada. Un secondo esempio è la collaborazione che abbiamo con il Festival dei Cine di Venezia che dà la possibilità ad alcune nostre studentesse e studenti particolarmente valevoli che selezioniamo di far parte di una giuria internazionale che assegna il premio Unimed. In definitiva, la Laura Magistrale in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione, oltre a fornire a studentesse e studenti un'alta formazione specialistica, li mette in dialogo già durante due anni di studio con i presenti rilevanti per gli sbocchi occupazionali, che ora vediamo, vediamo quali sono gli sbocchi occupazionali di questa laurea. I nostri ingegneri, le nostre ingegnere, innanzitutto trovano lavoro? Questa è la tipica domanda che ci sentiamo fare da voi. Ebbene, la risposta è sì, come dimostrano i dati al ma laura. A tre anni dalla laurea il tasso di occupazione dei nostri laureati è del 94%. Dove lavorano i nostri ingegneri e le nostre ingegneri? Lavorano nelle imprese di produzione di contenuti digitali e nelle imprese ICT a più ampio spettro. Per usare il termine economico corretto, gli sbocchi occupazionali sono nei settori delle industrie creative e culturali. Questo comparto economico è molto composito, ha all'interno moltissime imprese di tipologie diverse, ma vale in Italia il 5,7% del PIL nazionale. Questo significa che una quota rilevante alla nostra economia sta proprio in questi settori ai quali si dirigono i nostri laureati. I nostri laureati inoltre si affacciano alla libera professione, fondano start-up, fondano studi creativi che nel tempo continuano anche a collaborare con il corso di studi, offrendo tirocini, formazione. Alcuni nostri docenti collaboratori ad esempio sono nostri laureati che hanno intrapreso una carriera professionale come creativi digitali, videomaker, sviluppatori informatici eccetera. Questa laura magistrale insomma fonda e crea una community di persone con una forte identità che resta anche dopo la laurea, grazie alle razioni virtuose che costruiamo durante gli anni universitari e questo è un altro tratto peculiare. Per chiudere questo nostro breve viaggio all'interno di questa laurea magistrale, vi lascio con le parole di una nostra laureata che meglio di chiunque altro può spiegare il valore e la specificità di questa laurea. Ciao ragazzi, sono Marta Lombardelli, laureata magistrale in Ingegnere del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione. Ad oggi videomaker documentarista. I miei studi universitari mi hanno fornito una panoramica completa delle conoscenze del mondo digitale, sia da un punto di vista tecnico che in ambito creativo, quindi dall'informatica alle tecniche linguaggi di comunicazione. Quindi da un lato mi ha dato le conoscenze tecnico-ingegneristiche per utilizzare gli strumenti volte alla realizzazione di un prodotto audiovisivo e dall'altro mi ha dato le conoscenze per effettuare le giuste scelte comunicative e credo che l'unione di questi due ambiti sia proprio il valore aggiunto di questa facoltà. Grazie ai miei studi ho acquisito le basi per poter dialogare con facilità con tutti i protagonisti del mondo digitale, per lavorare in team ed essere flessibile e dinamica, tutti aspetti che poi si sono rivelati fondamentali in ambito lavorativo e che poi uniti alle mie attitudini personali mi hanno permesso di costruire la mia professionalità. Avere tutto questo nella cassetta degli apprezzi mi permette ogni volta di trovare il modo migliore per raccontare storie e trasmettere conoscenze ed emozioni fondamentali nel mio lavoro da video-maker-commentarista. Bene, se volete restare in contatto con noi avete un'email dedicata, avete un gruppo Telegram dedicato alla Laura Magistrale di Ingegnere del Cinema oltre a tutti i canali social del Collegio di Informatica Cinema e Meccatronica. Ora non resta che iscrivervi, vi aspettiamo! Grazie a tutti!